Abbiamo fatto come prestazione un'ottima prestazione. Penso che quando non concretizzi è giusto che perdi. Sapevo che Napoli in qualsiasi modo ti crea tante occasioni che ti può fare gol, anche se le aspetti tutti dietro. Per cui abbiamo giocato come volevo. Mi dispiace per occasioni che abbiamo creato e che non siamo riusciti a concretizzare. Sono contento della prestazione in globale, di tutte le cose che abbiamo preparato sia nella fase difessiva sia nella fase attacco dove mettevamo in difficoltà il Napoli sulle situazioni dove possono andare in difficoltà e abbiamo fatto bene. Quello che mi rammarica è non aver fatto gol quando giochi così. Come dice il giornalista di prima, prendendo anche qualche rischio, devi fare gol, non uno ma di più. Grazie a tutti.